Ciao amici, oggi vi faccio vedere what I eat in a day, il mio menù summertime per le vacanze al mare o in piscina. Siete pronti a trascorrere una giornata di relax insieme? Certo, che domande! Bene, prima di uscire faccio colazione con la ricetta della mia super colazione dimagrante che trovate in questo video. Ma secondo voi quali sono le cose più importanti per un menù da spiaggia? Che sia fresco? Sì, ma non solo, ci sono due aspetti, quale cibo mangiamo e come lo portiamo con noi. Io scelgo cibo leggero ma nutriente, sempre naturale e anti caldo. Per portarmelo dietro deve essere pratico da preparare e anche da mangiare. No scusa, mica posso mangiare frutto tutto il giorno no? Infatti non è necessario, guarda io ho già tutto pronto nella mia borsa frigo. Andiamo! Grazie a tutti! Eccoci qui! Quando viene fame a metà mattina io vi mangio un sacchetto di patatine. Patatine! Se il cibo non è fresco e naturale non è di tendenza quest'estate. Le patatine sono carboidrati pieni di grassi e di sale, fanno solo ingrassare. Io invece bevo il mio frullatone risolutivo. Trovate la ricetta in questo video. È buonissimo! È fresco, delizioso, light, ma anche proteico. Però non impegna troppo la digestione. Ci dà le vitamine e i minerali che servono per mantenere il corpo idratato. Bisogna metterlo in una borraccia termica come questa per evitare che si rovini con il caldo. Se volete stare in forma, sul canale trovate la mia playlist in forma per l'estate, con questi e tanti altri consigli e ricette. Andatela a vedere, il link è in descrizione qui sotto. E per seguire tutti i miei video in anteprima basta iscriversi al canale, è facile! Basta un click anche qui, così! E attivate le notifiche così YouTube vi avvisa subito. Adesso pranziamo! Eccomi qui all'ombra per il pranzo. Cerco sempre che sia leggero e gustoso. Mi raccomando, mentre mangiate state all'ombra, ma assicuratevi di non prendere freddo alla pancia, perché la pancia fredda si gonfia più spesso. Lo sapevate? Ah, questa è una cosa importante, prendo nota! Ieri sera ho preparato l'insalatona di riso che vi ho fatto vedere in questo video. Poi l'ho lasciata in frigo tutta la notte. Il riso è un cibo anticaldo, nutriente e la mia ricetta è saporita al punto giusto, con le giuste calorie. Questa mattina ho preparato delle monoforzioni riciclando delle vaschette che avevo a casa. Sono perfette se siete in tanti, così non servono piatti e non si lascia spazzatura in giro. Un po' di ecologia e rispetto dell'ambiente non guasta mai, anzi ne parleremo ancora. E poi la monoforzione evita gli eccessi, perché si vede quante ne mangiamo. Non ci sono spuse. E' bello dedicare le vacanze al benessere, vero? Se vi piace questa idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Per merenda o finisco il frullatone del mattino, se ne è avanzato un po', oppure mi porto della frutta secca, che è sempre pratica. Ma io invece pensavo di bermi una bella divita fiacciata e mangiarmi un gelato. Se vuoi qualcosa di fresco, ma più sano e amico della linea, puoi farti il green smoothie che ho fatto vedere in questo video. Sempre da mettere in una bottiglia termica. Lo prepari prima di uscire, qualche cubetto di ghiaccio dentro e le mattonelle di ghiaccio nella borsa. E' super nutriente, ricchissimo di vitamine, minerali, antiossidanti e grassi buoni che saziano fino a cena. E' sempre buonissimo. Invece se voglio cibo solido, mi concedo della frutta secca. E per la cena, dopo una giornata di mare, io muoio di fame. Anche io, ma per rimanere in forma e mantenere la linea, io non mangio mai fritti misti, pizze traboccanti di formaggi o taglieri di salumi vari. Sia a casa che a cena fuori, la mia soluzione è abbondare di verdure crude o cotte e tante proteine magre. Io, per esempio, adoro la mia insalatona risolutiva. Vi ho fatto vedere qui come si prepara. L'ho preparata scondita questa mattina, l'ho messa in una vaschetta ermetica e ora aggiungo una delle mie vinagrette leggere e la condisco. Questa è buonissima. Et voilà, ecco fatto. Ora avete tutte le mie ricette dalla mattina alla sera. Potete organizzarvi con alimenti sani e gustosi per tutta la giornata, come meglio credete. E ora tocca a voi. Aiutate i vostri amici a mangiare sano anche in vacanza. Condividete questo video sui vostri social. Parlatene. Fate queste ricette. E se vi chiedono dove le avete imparate, fategli vedere questo video. Io vi aspetto presto, sempre qui sul canale, per il prossimo video, naturalmente. Ciao! Nella mia utilissima borsa, prego! Borsa, prego!